Wow! Quante piramidi! Guarda le mummie! Che paura! Tati, ti immagini come sarei io da mummia? Saresti molto spaventoso! Che ne dici di me come faraone? Ho un'idea! Andiamo a vedere le piramidi? Facciamo gli archeologi! Brilla, brilla Stellina! Tati e Misifu andranno in Egitto prima! Wow! C'ha così tanta sabbia! Tati, nel libro non sembrava che facesse così caldo! Mi scelterò per tutto questo calore! Non preoccuparti Misifu, ci arriveremo con un cammello! Ok! Brilla, brilla Stellina! Con un cammello ad arrivare alle piramidi faremo prima! Sali in cima Misifu! Misifu, puoi aiutarmi? Città, ti aspetta che aiuto! È molto più difficile di quanto pensassi! Forse è una scalaccia di cui abbiamo bisogno! Brilla, brilla Stellina! Vorrei una scaletta molto carina! Ci siamo! Non so, non mi sembra così tanto veloce! Ce l'abbiamo fatta! Wow! Sono gigantesche! Tati, ma dov'è l'ingresso? Non lo sa, Misifu! Dobbiamo cercarlo! Tati, dove sei? Oh, Misifu! Misifu! Sta arrivando! Tati! Sì! Tati, pensavo che non ti avrei mai più rivista! È tutto a posto, Misifu, ma d'ora in poi dobbiamo stare più attenti! Vieni, Misifu, andiamo ad esplorare quello che c'è qui! Tati, potresti usare la tua magia per illuminare un po'! Oh, ok! Oh no! Ho perso di nuovo la mia pacchetta magica! Oh no! E adesso che facciamo? Oh wow! Chi ha acceso le luci? Misifu, stai attento e non toccare nulla! Corri, corri, Misifu! Corriamo! Non posso dati! Oh! 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 Stai bene, Misifu? Meow! No, Tati, ho un bel bernoccolo in testa! Oh! Povero gattino, non preoccuparti! Sono qui per aiutarti! Avremo bisogno di una penda, però! Sì, proprio come quella! È così lunga che non finisce mai! Eh, ridammi la mia benda! Oh! 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 Una mummia! Oh! Aiuto, aiuto, aiuto! Tanti, tanti, non lasciarmi indietro! Oh! 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 Fermo! Fermo! Oh! 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 E adesso che facciamo, Tati? Aiutaci! 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 Te ne devi farti, vi dirò su! Guarda, Misifu! La mummia ci sta aiutando! Beh, mi fa lo stesso paura! Vi aiuto io, ragazzi! Grazie mille, ci hai salvati! E mi dispiace che abbiamo avuto paura di te! Non preoccupatevi, succede sempre, però non capisco come mai! Pensi di poterci aiutare ad uscire da qui? Sì, certo! Iuppi! Seguitemi! L'uscita è proprio da questa parte! Ma è molto piccolo, non so se riesco a passare da lì! Io posso farlo! Oh! Ci sono tanti insetti! È proprio come nei libri! Ci siamo! Ecco la tua bacchetta, Tati! Posso venire con voi, per favore! Qui mi annoio davvero tanto, per favore! Sì, certo! Creerò un portale magico con la mia bacchetta e potrai venirci a trovare tutte le volte che vorrai! Fantastico! Brilla, brilla, Stellina! Un portale magico apparirà quanto prima! Io vado a casa, ho fame! Hai visto, mummia? Questa è la mia casetta! Wow! È molto piccola! Non preferiresti vivere dentro una grande piramide come me? Beh, no! Mi piace così com'è! Mamma, ho fame! Mamma, ho fame! Beh, ragazzi, mi dispiace, ma devo andare perché anche mio figlio ha molta fame e devo dargli da mangiare! Ci vediamo presto! Ok, mamma mummia, sei la benvenuta! Ok, ragazzi, a presto! Tati, questa avventura è stata molto divertente! Ho un'idea! Che ne pensi se andiamo a visitare il castello del conte Dracula? Mmm... Si può perché no! Potrebbe essere davvero interessante! Anche!